IWA 2013 da Norimberga, allforshooter.com, siamo qui da uno di quelli che da sempre è tra i principali produttori di stivali. Le Chamois, una dita che dal 1927 è sinonimo di gomma, di stivali di grande qualità, di caucciù, di devarazioni artigianali proposte al grande pubblico dei cacciatori. Siamo qui con Gianluca, responsabile del... Buongiorno, buonasera a tutti, ormai siamo sul web, la gente lo guarda a poesiasi ora. Responsabile per quello che riguarda il mercato italiano, noi siamo fieri di presentare un prodotto completamente fatto a mano, artigianale, per cui un prodotto dà l'enorme qualità, un prodotto eccezionale. La cosa nuova di quest'anno, con cosa vi presentate qui a Norimberga? Le novità sono diverse, sicuramente la più interessante riguarda uno dei nostri prodotti principali che è il Vierzon, diciamo lo stivale più versatile in assoluto, lo stivale che ha diversi tipi di possibilità di fodere, per cui fodere in cuoio, fodere in jersey, fodere in neoprene. Sicuramente il prodotto principale di quest'anno è il modello camouflage, è un modello RealTree come tipo di camouflage, abbiamo una suola con inserto termoplastico a sostegno dell'arco plantare che permette allo stivale di evitare quelle oscillazioni laterali e di scaricare bene il peso, per cui ne facilita la camminata. L'interno è un interno in neoprene 3 mm, il neoprene 3 mm ha la grande qualità di avere un buon grado di isolamento, questo è un prodotto che ha meno 12-13 gradi, ha una dispersione termica di 1 grado ogni 30 minuti, per cui ha una temperatura di meno 4-5 gradi e un'ottima tenuta. Naturalmente è indicato per una caccia di appostamento nel bosco, piuttosto che anche agli acquatici e al canneto.